Cosa sono poi 300 tonnellate di rifiuti al giorno che la sindaca Raggi vorrebbe donare al popolo pugliese? Una bazzeco, l'hanno detto di prima chito i pentastellati pugliesi, che a grido di obbedisco alla regina Virginia si sono genuflessi e con acrobazie linguistiche hanno chinato il capo in senso di obbedienza. Ma la Puglia, del vicepresidente del Consiglio regionale Peppino Longo, si oppone in maniera drastica ad una possibile iniziativa di accordo temporaneo tra Lazio e Puglia per il trattamento di eccedenze dei rifiuti della capitale. Comprendo che in materia diventi a volte necessario quel principio di solidarietà transregionale, ma la materia deve essere gestita con buon senso e senza ritenere che il Sud, e nel caso la Puglia, come terra periferica di un nuovo immaginario impero che vorrebbe farne una discarica, spiega Longo, che suggerisce agli amici grillini di rivolgersi ai loro ricchi alleati Zaia e Fondana. La Puglia non può e non vuole smaltire i rifiuti della capitale, né può essere capo espiatorio di beghe politiche tra Campidoglia e Regione Lazio, afferma Longo. Abbiamo gritato il nostro no alla realizzazione di nuovi inceneritori. In Puglia siamo convinti che le conseguenze di scelte non oculate, spesso apertamente sbagliate, possono essere catastrofiche e per questo siamo pronti a scendere in campo in prima linea per bloccare eventuali scempi ambientali. Finalmente lo hanno capito anche i pentastellati pugliesi che hanno fatto dietro front su questa questione. La nostra Regione avrebbe bisogno di ben altre attenzioni da parte della capitale, per esempio quando si parla di politica a sostegno del turismo, del fare impresa, dell'occupazione giovanile, mentre sul ciclo dei rifiuti occorre insistere sulla prevenzione di comportamenti criminali che hanno ridotto le nostre campagne in discariche e con politiche attive a favore della raccolta e dello smaltimento dei differenziati.